Mangiala. Adesso. Oh mio Dio! Dove cazzo è, Shetty? Cazzo è, Shetty? Facete questa cazzo di porta? Che cazzo è? Ti sento, Ashley? Apri subito la porta. O giuro su Dio che dirò a tutti cosa abbiamo fatto in bagno alla raccolta fondi contro i tumori infantili. Va bene, aprite, 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 aprite. Dirò a tutti che cosa hai fatto? Va bene, stiamo aprendo la porta. Smetti di parlare, mio Dio! Oh cazzo, Ash! Ho recitato lo scema, giuro su Dio che credevo di morire! Mantieni la calma, respira fuori la tensione, va tutto bene, guarda, qualcuno ha acceso il fischio sonico! Oh cazzo! Oh cazzo, oh cazzo, ti prego! Ma che cazzo? Non state lì fermi, bloccate quella porta! Non ce la faccio! Trova patriota!